E adesso cambiamo decisamente argomento, passiamo allo sport e ci occupiamo di calcio di serie C perché domani ci sarà un impegno del Pescara in trasferta che dovrà affrontare l'Entella, fischio di inizio alle ore 16 e 15, ma insomma ci facciamo raccontare tutto da Massimo Profeta che è qui in studio con noi. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te Anna, a tutti gli amici di Visione Ascolto, potremmo dire così tempi grammi per il Pescara che è chiamato ad invertire la tendenza, ricordiamo soltanto un punto nelle ultime 5 partite con ben 4 sconfitte, il Pescara non vince in campionato dal 22 ottobre, 1-4 a Lucca addirittura da quasi due mesi in casa all'Adriatico Giovanni Cornacchia, 3-2 sul Gubbio, arriva però da una vittoria che ha aiutato dal punto di vista psicologico la squadra, in Coppa Italia la vittoria per due reti a zero martedì scorso, Pescara che si è qualificato ai quarti di finale affronterà il Catania il prossimo 13 dicembre. Diamo uno sguardo anche alla classifica con l'ausilio della grafica, Roberto Cherchi che tra poco ci manderà in onda appunto la pagina della classifica, come vedete la Pescara è settimo, ma con una gara da recuperare perché ci sarà anche la trasferta di Pontevera, martedì prossimo ore 18 e 30, dunque in tre giorni due trasferte molto importanti per la squadra di Zeeman. Sono previste delle novità e possiamo far vedere anche la schermata delle probabili informazioni, naturalmente siamo nel campo delle supposizioni Anna, perché chiaramente non potendo vedere tutti gli allenamenti, però oggi sono emesse delle novità. Dalla seduta e rifinitura non c'è stata la conferenza pre-gara di Zeeman, ebbene come vedete Pellacani che è stato il migliore nella partita di Coppa con il Latina martedì scorso, insieme con Floriani e con il solito Pizzari dovrebbe, usiamo il condizionale quanto mai di rigore, prendere il posto nel cuore della difesa di Brosco, di Capitan Brosco. Dunque Pizzari tre pali, Piano Pellacani, Messic e Milani in difesa a centrocampo. Altra novità di cui si era parlato però nei giorni scorsi, Franchini dal primo minuto, la prima titolare per l'ex Padova insieme con Squizzato e Aloy. Insomma un'altra esclusione tra virgolette eccellente, perché dovrebbe partire dalla panchina Tugnov. E davanti, altra esclusione sorprendente, ma fino a un certo punto perché non stava facendo bene in campionato, Merola, che sarà o potrebbe essere rimpiazzato da Masala, che aveva cominciato anche dal primo minuto nella gara di Coppa con il Latina, ha disputato tra l'altro una buona gara. Masala sarebbe per questo ragazzo classe 2004 la seconda da titolare, aveva già giocato in campionato a Carrara contro il Sestri Levante lo scorso 19 settembre. Naturalmente Masala andrà a completare il tridente insieme con Cupone che tornerà a titolare dopo quattro panchine consecutive e Cagiano che tra l'altro ha segnato martedì scorso nel vitoroso match di Coppa con il Latina. Vediamo l'Entella, perché l'Entella ha due assenze pesanti in attacco, Di Santo e Santini sono due attaccanti, ne restano soltanto due, a disposizione di Volpe il tecnico che ha sostituito la quarta giornata l'esonerato Volpe, o meglio Gallo che ha sostituito Volpe. Dopo quattro giornate, tra l'altro l'Entella ha cominciato molto male questo campionato, soltanto due punti. Per Gallo invece cinque vittorie e altrettante sconfitte, non ha mai pareggiato l'Entella con Gallo in panchina. Il sistema di gioco dovrebbe essere quello che vi stiamo facendo vedere in grafica, il 3-5-2 con De Lucia Trepali, Manzi, Saddichi e Bonini nel cuore della difesa. Poi gli esterni dovrebbero essere Parodi e Di Mario. Di Mario che è un giocatore molto interessante, un giovane del 2004, Peterman in cabina di regia con Corbari e Mosti, che è un esterno di qualità ex Modena, un esterno mancino. E poi davanti Fagioli e Bruzzese di Penne. È un ex perché ha giocato nei giovanili del Pescara, soltanto nove presenze a dire il vero, nel club Biancazzurro, nella primavera Biancazzurro, nei primi sei mesi della stagione 2018-2019, e al suo fianco l'esperto Zamparo. Questa la probabile formazione dell'Entella, che deve rinunciare anche al centrocapista greco, sia Tunis. L'Entella occupa la tredicesima posizione in classifica generale, sicuramente sta disattendendo le aspettative della vigilia. L'ultimo confronto tra Entella e Pescara c'è stato proprio lo scorso 31 maggio, era il ritorno dei quarti di finale play-off, e il Pescara riuscì ad espugnare lo stadio comunale di Chiavari con il risultato di 3-2, doppietta di Cuppone e gol di Delle Monache. Vedremo che cosa succederà domani.